Centrodestra e Movimento 5 Stelle tentano il colpo gobbo al sindaco di Pescara presentando in gruppo il foglio di raccolta firme per la richiesta di dimissioni davanti al banco della lista Teodoro. Teodoro che ai primi di ottobre si era visto togliere dalla giunta la propria rappresentante per un rimpasto, rimpasto che fu condito da forti polemiche e dissenso con un intervento molto accorato di Pier Nicola Teodoro alla successiva seduta di consiglio comunale. Io faccio parte nel centro-sinistra, la lista Teodoro, Scegli Pescara fa parte nel centro-sinistra non certo fa parte né del centro-destra né della lista 5 Stelle e se permette io non prendo né ordini né altro né dalla Forza Italia né dal centro-destra ma in particolare da Forza Italia e tanto poco di meno dal Movimento 5 Stelle. La lista Teodoro non ha appoggiato l'iniziativa del centro-destro e non ha nessuna intenzione di farlo, al contrario porterà avanti il proprio lavoro certo di ottenere consensi da quei cittadini che da oltre un decennio gli hanno assicurato un posto in consiglio e fino a poco tempo fa in giunta. L'intervento fatto nel primo consiglio comunale è stato un intervento e l'ha fatto qui il sottoscritto, un intervento duro ma dove noi abbiamo cercato di spronare, di spronare la giunta, di spronare il sindaco, di spronare la maggioranza a lavorare sempre di più e questi risultati noi li abbiamo ottenuti perché noi abbiamo con i nostri emendamenti migliorato un DUP che è stato fermato, bloccato, modificato e poi approvato un'animità, un documento importante che è una documentazione unica di programmazione. L'obiettivo della lista Teodoro è questo, è quello di lavorare sempre per il bene della collettività, poi le chiacchiere, le istigazioni politiche, gli attacchi politici lasciano il tempo che trovi.